Oggi vediamo cosa fare quando il jack del cellulare funziona male per esempio si sente la musica da una cuffia sola, continua a garacchiare e cose del genere questo è il mio Redmi Note 9 Pro che presenta abbastanza frequentemente questo problema ma se andiamo a vedere attentamente il jack non è completamente infilato ma rimane leggermente fuori prima di tutto togliamo il jack delle cuffie e poi guardiamo all'interno effettivamente dà l'idea di essere un po' sporco prendo una pinza molto finica come questa vado all'interno del jack e cerco di togliere quello che c'è dentro dopo averlo un po' scrollato ci riprovo eccolo qua questa è la lanetta che c'era dentro al jack dopo che ho rimosso la lanetta metto dentro il jack effettivamente va molto più dentro rispetto prima oggi festeggiamo i 1000 iscritti al canale per cui se il video è stato utile mi raccomando iscrivetevi al canale mettete un bel like condividetelo ma soprattutto commentate se siete riusciti o meno a risolvere il vostro problema sul jack vi saluto alla prossima ciao ragazzi ciao 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 ciao